La votazione. In questo modulo verrà illustrato lo svolgimento delle operazioni di votazione e di compiti dei componenti dell'ufficio nella gestione del voto degli elettori. Prima dell'orario di inizio della votazione, alle ore 15, il Presidente e gli scrutatori provvedono ad aprire tutto il materiale sigillato e a predisporre sui tavoli del seggio l'occorrente per far votare gli elettori, preparandosi ad accogliere le persone che si presentano. Normalmente chi si presenta a votare è iscritto nella lista della sezione e presenta la tessera elettorale. Tuttavia, prima di ammetterlo al voto, è sempre opportuno compiere alcune verifiche per evitare possibili irregolarità. In particolare si deve verificare che l'elettore sia effettivamente iscritto nelle liste della sezione. Può infatti capitare che, per semplice errore, l'elettore di una sezione si presenti a votare in quella a fianco. Poi si deve verificare che sulla tessera elettorale esibita non sia già stato apposto il timbro di un'altra sezione per quella tornata o se vi siano altre anomalie o errori sulla tessera elettorale. Se viene riscontrata qualche anomalia sulla tessera elettorale, prima di ammettere l'elettore al voto si devono sentire gli uffici comunali per accertare la posizione dell'elettore. Chi ha smarrito o dimenticato la tessera elettorale può essere comunque ammesso al voto se presenta un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato dall'ufficio elettorale comunale per quella singola consultazione. Ogni elettore deve essere innanzitutto identificato. Sono documenti validi per l'identificazione quelli che hanno una fotografia, ad esempio la carta d'identità, il passaporto, il porto d'armi, il libretto ferroviario, le patenti di guida ed ogni documento rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. È possibile anche identificare un elettore in assenza di un documento sulla base del riconoscimento da parte di uno dei componenti dell'ufficio o di un altro elettore presente. In questi ultimi casi la persona che identifica l'elettore firma sulle liste sezionali accanto al nominativo dell'elettore e il presidente fa prendere nota accanto alla firma del numero del suo documento di riconoscimento. In caso di problemi inerenti l'identità di un elettore spetta al presidente decidere. Dopo aver identificato l'elettore e aver controllato che sulla tessera elettorale non vi sia già il bollo di un'altra sezione per la stessa consultazione, un componente dell'ufficio dovrà nell'ordine scrivere gli estremi del documento di identificazione nello spazio della lista sezionale posto a fianco del nome dell'elettore, timbrare la tessera elettorale con il bollo della sezione e la data dell'elezione. A questo punto il presidente dell'ufficio consegna all'elettore la scheda di votazione e la matita copiativa e lo invita ad accomodarsi in una cabina libera. La scheda deve essere consegnata aperta all'elettore. Ricordiamo che l'espressione del voto con la penna a sfera invalida la scheda. Dopo che l'elettore ha restituito la scheda votata piegata, il presidente la inserisce nell'urna. La scheda votata va piegata direttamente dall'elettore prima di uscire dalla cabina e solo successivamente restituita al presidente. Se un elettore dopo averla votata riconsegna la scheda aperta al presidente, quest'ultimo non può ripiegarla ma deve invitare l'elettore a piegarla facendolo rientrare in cabina. Infine un componente dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato firmando la lista sezionale in corrispondenza del nominativo dell'elettore. Con la scheda l'elettore deve restituire al presidente anche la matita. La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita dalla legge con una sanzione amministrativa pecuniaria. Il presidente fa prendere nota nel verbale di tale infrazione per effettuare regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio. La legge prevede che possono essere ammessi a votare anche elettori che non sono iscritti nella sezione. Si tratta in particolare delle seguenti categorie. Elettori che votano in base ad una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che le dichiara elettori del Comune o in base ad un'attestazione del Sindaco. In questo caso, visto che il nominativo di questi elettori non figura nelle liste sezionali, bisogna aggiungerlo in calce alle liste e trattenere l'attestazione o la sentenza, scrivendoci sopra ha votato, la data, la firma ed apponendo il bollo della sezione. I componenti dell'ufficio e di rappresentanti di lista che possono votare nella sezione in cui svolgono il proprio compito anche se elettori di un'altra sezione. In questo caso non occorre annotare la modalità di identificazione perché si tratta di elettori già identificati, ma basta timbrare la loro tessera elettorale e aggiungere il nominativo in calce alle liste. Possono inoltre votare nella sezione, anche se non ne sono elettori, gli ufficiali e agenti della Forza Pubblica in servizio presso la sezione e gli elettori non deambulanti quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote. Questi ultimi, oltre alla tessera elettorale, devono presentare un certificato medico rilasciato dall'ASL competente che attesta la ridotta capacità di diambulazione o la patente di guida speciale. Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Ovviamente tutte queste categorie di elettori che si aggiungono a quelli iscritti nelle liste della sezione devono essere necessariamente elettori di un'altra sezione della circoscrizione elettorale per poter votare alle elezioni europee. Quando si presentano a votare degli elettori non iscritti nella sezione, il presidente aggiunge i loro nominativi in calce alle liste elettorali della sezione, li riporta nel paragrafo 11 del verbale, indicando anche il titolo in forza del quale sono ammessi a votare nella sezione, ad esempio il numero della sentenza o dell'attestazione del sindaco o la qualifica di scrutatore. Il presidente consegna loro una scheda appositamente autenticata, prelevate dalla busta contenente le schede non autenticate e quindi senza intaccare quelle autenticate il mattino per gli elettori della sezione. Seguire quest'ultima prescrizione è fondamentale affinché tornino i riscontri richiesti dalla normativa. Sono tre le comunicazioni che il presidente deve trasmettere nella giornata del sabato. Alle 9 va data comunicazione della regolare Costituzione del seggio. Alle 12 va data comunicazione della chiusura delle operazioni dei seggi. Alle 23 va comunicata l'affluenza totale alle urne. Nella giornata di domenica invece si dovrà procedere alla trasmissione delle seguenti notizie. Alle ore 7 andrà comunicata la ricostituzione dei seggi. Alle ore 12 andrà comunicato il dato assoluto dei votanti alle ore 12. Alle ore 19 andrà comunicato il dato assoluto dei votanti alle ore 19. Alle ore 23 andrà comunicato il dato assoluto dei votanti alla chiusura delle operazioni di votazione distinguendo tra uomini, donne e totale. Queste comunicazioni vanno consegnate al delegato del sindaco presso il seggio. In ogni caso il presidente segue le istruzioni fornite dall'ufficio elettorale comunale. Passiamo ad illustrare i casi particolari che possono presentarsi nel corso della votazione e quali soluzioni adottare per gestire queste circostanze correttamente. Per i casi particolari si intendono quelle situazioni che deviano dal normale svolgimento delle operazioni di voto. Normalmente nel nostro ordinamento il voto deve essere espresso personalmente dall'elettore. L'unica eccezione a questa regola è quella ammessa per alcune categorie dei lettori che non potendo votare autonomamente vengono assistiti da un familiare o da un altro elettore dagli stessi liberalmente scelto che materialmente traccia il segno di voto sulla scheda. Gli elettori ammessi al voto assistito sono i non vedenti, gli amputati ad entrambe le mani e gli affetti da paralisi, i cittadini diversamente abili che non possono esprimere il voto autonomamente, le persone affette da patologie attestate da certificato medico e le persone affette da altri impedimenti di analoga gravità che il presidente del seggio può facilmente constatare, ad esempio una persona ingessata ad entrambe le mani. Per essere ammesso al voto assistito l'elettore deve esibire la tessera elettorale munita della sigla ADV che certifica in via permanente che l'elettore può avvalersi di questa modalità di voto. Oppure esibire un certificato medico che attesta che l'elettore è affetto da un'infermità fisica diagnosticata che gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. Oppure esibire il libretto dell'Inps o del Ministero dell'Interno che attesta che la persona è cieco civile. In assenza delle suddette certificazioni l'elettore può essere ammesso sulla base dell'accertamento personale del presidente del seggio delle condizioni dell'elettore che giustificano il ricorso all'assistenza. Il presidente registra al paragrafo 12 del verbale questa particolare modalità di voto scrivendo il nome e cognome dell'elettore, dell'accompagnatore ed il motivo dell'assistenza o il numero della tessera elettorale se è munita di sigla ADV. Nel caso in cui il presidente abbia ammesso l'elettore in base a sue valutazioni, nel verbale andrà indicato il motivo per il quale ritiene che l'elettore abbia bisogno di assistenza. Se viene esibito un certificato medico, occorre registrare anche il nome del medico che l'ha redatto e il certificato verrà allegato al verbale dell'ufficio. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, nello spazio che certifica il voto, senza porre il bollo, va inserita una dicitura che attesta le generalità dell'elettore che ha assistito un altro elettore. Questo per evitare che l'elettore accompagni un'altra persona, cosa che è vietata dalla legge. Ricordiamo infine che non sono ammissibili al voto assistito patologie che riguardano la sfera psichica, come ad esempio l'Alzheimer o gravi ritardi psichici. Può succedere che durante il voto un elettore riscontri che la scheda che gli è stata consegnata è deteriorata, oppure dichiari di aver sbagliato a votare o stropicci o strappi la scheda per negligenza. In questo caso il presidente può sostituire la scheda dell'elettore consegnandogliene un'altra appositamente autenticata, prelevandola dalla busta che contiene le schede non autenticate e quindi senza intaccare quelle autenticate per gli elettori della sezione. Sulla scheda ritirata il presidente scrive scheda deteriorata, la firma insieme a un altro scrutatore e la inserisce nella busta 5D EUR. I nomi degli elettori che hanno restituito la scheda deteriorata vanno indicati nel paragrafo 14, lettera C del verbale. La legge disciplina il caso in cui un elettore ritarda volutamente l'espressione di voto, si trattiene più del dovuto in cabina e o si rifiuta di restituire la scheda. Se si verifica questo caso, il presidente si fa consegnare la scheda dall'elettore, la annulla scrivendo scheda annullata, la firma insieme ad uno scrutatore e la inserisce nella busta 5D EUR. Il presidente, se repuda che il comportamento di un elettore non sia intenzionale, può riammetterlo a votare dopo aver ammesso al voto gli altri elettori presenti. Se riammette l'elettore al voto, il presidente gli consegna una scheda appositamente autenticata prelevata dalla busta contenente le schede non autenticate, senza intaccare quelle autenticate per gli elettori della sezione. I nomi degli elettori allontanati dalla cabina vanno riportati nel paragrafo 13 del verbale insieme agli indicazioni di quanti sono stati riammessi a votare, lettera B e quanti no, lettera C. Nel caso in cui un elettore dopo aver ricevuto la scheda di votazione si rifiuta di entrare in cabina per votare, il presidente deve annullare la scheda scrivendo scheda annullata, firmarla insieme ad uno scrutatore ed inserirla nella busta 5D EUR. Il presidente deve annotare l'accaduto anche nelle liste di sezione a fianco al nominativo dell'elettore. I nomi degli elettori che non hanno votato nella cabina vanno indicati nel paragrafo 14 lettera B del verbale. Questi elettori non possono essere riammessi a votare. Nel caso in cui un elettore dopo aver ricevuto la scheda di votazione ne riconsegna una non autenticata, il presidente deve annullare la scheda scrivendo scheda annullata, firmarla insieme ad uno scrutatore ed inserirla nella busta 5D EUR. Il presidente non deve riammettere l'elettore al voto e deve annotare l'accaduto anche nelle liste di sezione a fianco al nominativo dell'elettore. I nomi degli elettori che hanno restituito la scheda non autenticata vanno indicati nel paragrafo 14 lettera A del verbale e gli elettori stessi non vanno riammessi a votare. La sezione ospedaliera. La sezione ospedaliera è un ufficio di sezione costituito presso gli ospedali e gli altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto. Ne viene istituita una ogni 500 posti letto o frazione di 500. La sezione ospedaliera è in tutto e per tutto una normale sezione elettorale per cui funziona ed opera secondo quanto previsto per gli uffici elettorali di sezioni ordinari. Al presidente della sezione ospedaliera l'ufficio elettorale comunale consegna un elenco degli elettori che voteranno nella sezione. Compilato sulla base delle richieste pervenute al sindaco entro il terzo giorno antecedente la votazione da parte dei degenti che hanno chiesto di votare nel luogo di cura. Nell'ammettere gli elettori al voto l'ufficio oltre alla normale documentazione richiede anche l'attestazione del sindaco che riguarda l'avvenuta inclusione nell'elenco dei degenti in ospedale o luogo di cura. L'elettore deve essere ammesso a votare anche se non è incluso nell'elenco ma esibisce l'attestazione. L'unico accorgimento che il presidente deve avere è quello di verificare se nell'ospedale ci sono più sezioni che l'elettore non sia incluso nell'elenco di un'altra sezione. L'attestazione va ritirata ed allegata alle liste elettorali della sezione. I degenti che votano nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Può votare nella sezione ospedaliera anche il personale dell'ospedale o della casa di cura che ha richiesto all'ufficio elettorale comunale di essere assegnato a quella sezione purché ovviamente sia un elettore del comune. Passiamo adesso al funzionamento del seggio speciale. Nelle circoscrizioni delle sezioni dove esistono luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, luoghi di cura con almeno 200 posti letto e istituzioni di detenzione, è istituito un seggio speciale per raccogliere il voto degli elettori degenti o reclusi che non possono recarsi a votare nella cabina della sezione ospedaliera. Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori. Il segretario viene scelto dal presidente fra questi ultimi. Il seggio speciale si insedia insieme all'ufficio di sezione cui fa riferimento nella stessa sede. Il compito del seggio speciale consiste nel raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei luoghi di cura, dei detenuti in carcere e dei ricoverati nei luoghi di cura che non possono muoversi per andare a votare nelle cabine della sezione ospedaliera. L'ufficio di sezione cui fa riferimento il seggio speciale verbalizza gli adempimenti correlati alla raccolta del voto con queste modalità al paragrafo 36, allegato numero 1, del verbale. Il presidente del seggio speciale riceve dall'ufficio elettorale comunale un bollo aggiuntivo per timbrare le tessere elettorali degli elettori degenti o detenuti. L'elenco degli elettori degenti o detenuti iscritti in altre sezioni del comune che hanno fatto richiesta di votare nel luogo di cura o detenzione e dei quali andrà a raccogliere il voto, nonché gli stampati e le buste necessari per la raccolta del voto. Al momento della determinazione del numero delle schede da autenticare, il presidente della sezione cui fa riferimento il seggio speciale aggiunge questi elettori a quelli assegnati alla sezione, in modo da autenticare schede anche per coloro il cui voto sarà raccolto dal seggio speciale. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto degli elettori già citati. I componenti del seggio speciale non autenticano le schede e non partecipano allo scrutinio. Dopo l'insediamento del seggio, il presidente del seggio speciale si accorda con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione sull'ora in cui andrà a raccogliere il voto. Le operazioni del seggio speciale sono riportate nel verbale modello 18 EUR, che deve essere compilato in due esemplari per ogni luogo di cura o detenzione in cui il seggio speciale si reca. La domenica mattina, prima dell'inizio della votazione, il presidente dell'ufficio di sezione consegna al presidente del seggio speciale le schede autenticate necessarie per la raccolta del voto, racchiuse nella busta SD 1 EUR. Il numero delle schede consegnate al seggio speciale deve essere annotato al paragrafo 36 del verbale dell'ufficio di sezione. Allora fissata, il seggio speciale con i rappresentanti di lista che ne hanno fatto richiesta si reca nel luogo di cura o di detenzione per raccogliere il voto degli elettori. Nell'ammettere gli elettori al voto, il seggio speciale, oltre alla consueta documentazione, richiede anche l'attestazione del sindaco che riporta l'avvenuta inclusione nell'elenco dei degenti o detenuti. L'elettore deve essere ammesso a votare anche se non è incluso nell'elenco, ma esibisce l'attestazione. Gli elettori che votano sono iscritti all'atto della votazione in apposite liste elettorali aggiunte. L'attestazione va ritirata ed allegata alle liste sezionali. Al rientro del seggio speciale nella sezione, il presidente dell'ufficio di sezione apre la busta con le schede votate, busta SD 2 EUR, e le inserisce nell'urna dopo aver controllato che il loro numero sia uguale a quello degli elettori che hanno votato. Il numero degli elettori che hanno votato è attestato al paragrafo 36 del verbale dell'ufficio di sezione, nonché al corrispondente paragrafo di cui al verbale del seggio speciale. Il presidente dell'ufficio di sezione deve prestare particolare attenzione al momento in cui, al rientro del seggio speciale, vengono riconsegnate le schede autenticate non utilizzate per la votazione dei degenti e dei detenuti. In particolare, se sono state utilizzate delle schede in più rispetto al numero di elettori inclusi nell'elenco, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà autenticare un numero uguale di nuove schede per ricostituire il numero di schede autenticate il sabato mattina. Questo può succedere, ad esempio, se sono stati ammessi al voto alcuni elettori non inclusi nell'elenco trasmesso dal sindaco, o se sono state consegnate nuove schede in sostituzione di schede deteriorate ad alcuni elettori. Il numero delle schede da autenticare per ricostituire il numero autenticato all'inizio delle operazioni va attestato nel relativo paragrafo tabella B del verbale del seggio speciale. L'ufficio distaccato seggio volante. L'ufficio distaccato, anche detto seggio volante, è costituito all'interno di una sezione elettorale nella cui circoscrizione esistono ospedali o luoghi di cura con meno di 100 posti letto, oppure dove occorre raccogliere il voto a domicilio di elettori affetti da grave infermità. L'ufficio distaccato è composto dal presidente della sezione, dal segretario e da uno scrutatore sorteggiato. Durante l'orario in cui è aperta la votazione, nell'ora concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura o con gli interessati, l'ufficio distaccato procede alla raccolta del voto. Se lo desiderano, anche i rappresentanti di lista possono accompagnare il seggio volante nella raccolta del voto a domicilio o nel luogo di cura. Durante l'assenza del presidente, la sezione elettorale è presieduta dal vicepresidente e funziona con la presenza degli scrutatori rimasti. Se deve essere istituito l'ufficio distaccato, l'ufficio di sezione si compone di quattro scrutatori. Gli adempimenti connessi con la raccolta del voto degli elettori al proprio domicilio, ovvero degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto vanno riportati nel paragrafo 35 del verbale. Il nome ed il numero degli elettori che hanno fatto richiesta di votare nel luogo di cura o a casa propria è attestato nell'elenco trasmesso dal sindaco e consegnato al presidente del seggio. Il sabato mattina, al momento della determinazione del numero delle schede da autenticare, il presidente aggiunge gli elettori compresi in questo elenco e li somma a quelli assegnati alla sezione, in modo da autenticare schede anche per questi elettori. L'ufficio distaccato apporta con sé le schede autenticate necessarie per la raccolta del voto racchiuse in una busta SD 1 EUR. Il numero deve essere annotato al paragrafo 35 del verbale dell'ufficio di sezione. Nella mettere gli elettori al voto, l'ufficio distaccato, oltre alla consueta documentazione, richiede anche l'attestazione del sindaco che riporta l'avvenuta inclusione nell'elenco dei degenti o degli elettori ammessi a votare a domicilio. L'elettore deve essere ammesso a votare anche se non è incluso nell'elenco ma esibisce l'attestazione. L'attestazione va ritirata ed allegata alle liste sezionali. Gli elettori degenti che votano sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte, mentre gli elettori che votano al proprio domicilio sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione al momento del rientro dell'ufficio distaccato nel seggio, sempre che non siano già elettori della sezione. Al ritorno nell'ufficio di sezione, il presidente apre la busta con le schede votate e le inserisce nell'urna, dopo aver controllato che il loro numero sia uguale a quello degli elettori che hanno votato. Il numero degli elettori che hanno votato è attestato anche al relativo paragrafo del verbale dell'ufficio distaccato, modello 17 EUR. Il presidente dell'ufficio di sezione deve prestare particolare attenzione al momento in cui, al rientro nel seggio, conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione dei degenti e degli elettori che hanno votato al proprio domicilio. In particolare, se sono state utilizzate delle schede in più rispetto al numero di elettori inclusi nell'elenco, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà autenticare un numero uguale di nuove schede per ricostituire il numero di schede autenticate il sabato mattina. Questo può succedere, ad esempio, se sono stati ammessi al voto alcuni elettori non inclusi nell'elenco trasmesso dal sindaco o se sono state consegnate nuove schede in sostituzione di schede deteriorate ad alcuni elettori. Il numero delle schede da autenticare per ricostituire il numero autenticato all'inizio delle operazioni il sabato mattina va attestato nel relativo paragrafo, tabella B, del verbale dell'ufficio distaccato. In occasione di queste elezioni, per la prima volta sono ammessi a votare fuori sede, previa attestazione rilasciata dal comune di temporaneo domicilio o dal comune capologo di regione, gli elettori che per motivi di studio si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale. Se il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti fuori sede potranno votare direttamente nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio. In tale ipotesi, il presidente dell'ufficio di sezione provvede ad accertare la sussistenza della predetta attestazione su cui deve riportare l'annotazione a votato e quindi indica il numero complessivo e le generalità degli studenti fuori sede nella scheda di cui al paragrafo 9 bis del verbale dell'ufficio di sezione. Le riferite generalità vengono altresì riportate in calce alla lista degli elettori della medesima sezione. Se il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede potranno votare presso sezioni speciali istituite presso il comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio, sempre previa presentazione dell'attestazione rilasciata dal comune.